video game party al festival del fumetto di novegro 2010 sul palco c'è la finale del terzo e quarto posto di rock band 2 si sta svolgendo la finale di halo fifa è quasi alla fine insomma siamo in orario siamo riusciti ad essere in orario è anche terminato a real tournament 3 in modalità 2 la più tecnica se vogliamo e abbiamo qui i tre vincitori terzo arrivato quarto arrivato scuola più di abbiamo i quattro vincitori abbiamo toss un nostro ormai amico di noi di video games party come è stato questo torneo per te tos ebbene arrivo sempre quarto quindi si vede che è proprio il posto mio sei un diem maro no no preferisco il duel anch'io riusciti cala lungo al due sei un tecnico allora diciamo di sì va bene allora grazie per aver partecipato come al solito vinci una scheda madre sapphire targata amd con la nostra paola sempre è sempre un onore anche ricevere un premio da lei grazie mille tos buon rientro e come terzo arrivato invece abbiamo il beppe che questa volta è arrivato terzo anche da lui vogliamo un commento tecnico di questo torneo duel tirata difficile un sacco di gente forte se sei sempre nel gota comunque perché lo primo secondo terzo va bene sì va bene quante invidia siamo sempre noi amici che veniamo infatti adesso il primo arrivato è un mio amico è venuto da roma apposta da roma l'hai fatto venire allora aspettiamo la prima posizione intanto premiamo il beppe con una buona fornitura di dvd verbatim offerti dalla verbatim grazie mille beppe buon rientro ci vediamo sicuramente al prossimo video games party il secondo arrivato del torneo di unreal tournament modalità duel è invece nightwalker night vieni vieni di qua vieni di qua allora com'è stato questo torneo per te è stato stato difficile perché c'era bhtr e con lui non c'è storia però per il resto mi sono impegnato e sono arrivato secondo quindi c'è qualcuno più bravo di te sì c'è uno più bravo di me da roma doveva venire per batterti ai video games party è infatti però però veniva non so è venuto e mi ha battuto va bene va bene allora tra un po lo conosceremo per te c'è un processore amd perché hai scelto il processore amd l'ho preso anche ieri è perché è un ottima ottimo rapporto prezzo prestazioni e ce li ho fin dai primi duron quindi dal dicembre 2001 2000 quindi a real tournament gira benissimo con il processore amd si va benissimo è perfetto va bene allora buon rientro a casa e grazie per aver partecipato al nostro torneo night ci vediamo sicuramente al prossimo video games party e adesso sono curiosissimo di vedere il vincitore del torneo di unreal tournament modalità 2 da roma vieni e ti chiami francesco in arte nuca allora nuca come è stato questo torneo per te sei davvero così più bravo di nightwalker no dai abbiamo abbiamo giocato bene anche un po di fortuna però è andata bene ero molto agitato le prime partite sotto quella con beppe poi con night anche grazie a un po di fortuna è andata bene così senti dici quanto è finita l'ultimo l'ultima partite su che mappa avete giocata abbiamo giocato deck ed è finita 8 a 4 8 a 4 un buon punteggio da parte tua complimenti poi deck insomma ci sono gli amanti di deck che ci mettono proprio casa là dentro si fa la cucina e tu sei uno di quelli amanti di deck anch'io la adoravo per te la nostra paola che facciamo sfilare anche davanti a noi non c'è nessun problema c'è una bellissima scheda grafica radeon hd 48 50 una delle schede grafiche dell'ultima generazione targate sapphire che dire grazie mille per essere venuto addirittura da roma per noi la nostra paola ti incorona anche con la nostra medaglia allora io invece sono qua con il nostro everi e l'admin di questo torneo come è stato sto torneo è stato è stato molto equilibrato specialmente la fase finale ma più che altro perché abbiamo visto che è arrivato un nuovo personaggio che si è messo in mezzo a questo terreno che si portava a casa tutto e c'è da aggiungere che è l'allievo del peppe attenzione un anno e mezzo fa e se l'è portato nel suo team di deathmatch a squadre e adesso lui è diventato più bravo persino l'allievo ha superato il maestro non succede solo nella letteratura allora grazie mille per aver adbinato alla perfezione anche questi tornei io però ho cambiato il mio facebook e volevo un attimo passarti perfetto ecco verde ok tutto a posto grazie mille video games party il divertimento continua